Rischio neve e forte vento nell'Aretino. Se per adesso infatti le nevicate hanno interessato esclusivamente i rilievi montani ed alcune località a bassa quota del Casentino, comunque al di sopra dei 450 metri, la Sala Operativa Unificata della Protezione Civile ha emesso un altro codice giallo per neve e forte vento a partire dalla mezzanotte di sabato sino alla mezzanotte di domenica 10 gennaio, interessata dall'avviso in questo caso buona parte della provincia di Arezzo, previsti dunque fiocchi anche a bassa quota sopra ai 400 e 300 metri, mentre in altre zone della Toscana, in particolare in Garfagnana e sulla montagna pistoiese, prosegue l'emergenza e non si ferma così il lavoro dei volontari della racchetta per far fronte alla situazione di disagio causata dalla neve caduta nei giorni scorsi. Ogni giorno infatti sotto il coordinamento del settore protezione civile della Regione Toscana e in collaborazione con le altre associazioni regionali di protezione civile si alternano numerose squadre arrivate anche dalla sezione Aretina. Quando siamo arrivati sul posto, io personalmente il 7 la mattina abbiamo trovato zone che erano più o meno 7-8 giorni che non vedevano anima viva, la neve era molto alta e anche ora però al momento le strade almeno sono libere. Quando siamo arrivati noi, no, nemmeno quelle, a partire dai 1200 metri la neve si attestava sopra il metro e mezzo, fino a punte anche di due e mezzo, tre. Noi in realtà siamo partiti con squadre sia di motoseghisti sia con un mezzo spargisale che usiamo anche nella nostra zona tutto l'anno ma principalmente c'è stato bisogno di liberare a mano con le pale e di creare dei piccoli varchi sulla neve a famiglie che erano rimasti chiuse in casa. Quello che facciamo noi alla fine è bello il ringraziamento della gente. Anche un caffè semplice a noi fa piacere molto quando arrivi lì e non trovi trovi gente che ha bisogno di essere aiutata e forse a noi ci basta anche poco, ecco questa è la verità. Abbiamo tratto le famiglie completamente isolate da giorni ed è stato bello. È bello anche che ci sono centinaia di volontari ogni giorno che lasciano casa per andare a dare una mano agli altri.